Ormai siamo agli sgoccioli, il prossimo fine settimana sarà l'ultimo a disposizione per poter effettuare gli acquisti legati al Natale, i regali da mettere sotto l'albero. Sia che si tratti di giocattoli o di acquisti per i più grandi, il popolo degli acquirenti si divide da sempre in due grandi categorie, i programmatori ed i ritardatari. I programmatori sono coloro che non lasciano nulla al caso, studiano tutto nei minimi particolari e con grande anticipo, acquistano i regali più importanti per tempo e con tutta la calma possibile, non facendosi prendere dallo stress e dalla frenesia dell'acquisto all'ultimo minuto. E in questi giorni li riconosci perché viaggiano per negozi con foglietti di carta con la lista delle piccole rifiniture, i cosiddetti pensierini e in questo rush finale li vedi belli rilassati. A posto, tutto finito. Ci siamo tolti il pensiero. Regali, che orientamento ha? Abbigliamento. Abbigliamento. Sì, diciamo abbigliamento. Siamo andati sul sicuro. Sì. Stiamo ultimando. Bravo, bravo, vedi già questi due pacchi. Orientamento, su che cosa si è orientato? Scialpe, maglie, cose utili. Mi scusi, i regali di Natale, a che punto siamo? Eccoli, già pronti da mettere sotto l'albero di Natale. Sì, sì, già pronti. Con cosa vi siete orientati? Ultimi acquisti? Regalini, magliette. Roba intima. Roba intima. Quindi regali utili? Utili. Sotto l'albero però un pacchetto ci vuole. Certo. A che punto siamo con i regali? A buon punto da come vede. Vedo che le buste aumentano. Sono tante, aumentano e i soldi diminuiscono. Ecco, ma regali utili o regali? Utili, sempre utili. Sempre utili. I ritardatari invece sono gli eterni indecisi. Arrivano lunghi, spesso senza idee, sotto le feste e vanno a fare tutti gli acquisti la vigilia di Natale in un tour de force di entra ed esci dai negozi e centri commerciali in cui coronarie e cuore vengono messi a dura prova nell'intento disperato di non scordarsi di nessuno e improvvisando a più non posso. La vigilia di Natale li riconosci perché sul finire del poveriggio caracollano per strada totalmente ricoperti da pacchi, pacchetti, buste e bustarelle di cui probabilmente dimenticheranno anche per chi era ciò che hanno comperato. Siamo indietro. Bisogna accelerare un po'. Accelerare. Noi ci siamo resi conto. Orientamento? Che tipologia? Adesso vediamo stamattina che cosa ci ispira. La fantasia. La fantasia. E' messi molto male. Male? Ancora tutto da fare? Sì. Ma mancano pochi giorni. Facciamo il giorno prima, l'ultimo. Voi siete quelli dell'ultimo minuto. Sì. Che cosa state pensando? Regali utili, regali... Utili. 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 Tutti utili. Tutti utili. Sì. That's the Jingle Bell Rock That's the Jingle Bell Rock That's the Jingle Bell Rock That's the Jingle Bell Rock